Che cosa ne penso di Dubai? Siamo nel 2023 e oggi sono a Dubai per raccontarti le mie impressioni sotto un profilo personale, sociale, economico e fiscale di quello che sta accadendo in questa metropoli del futuro. Che cosa ne penso? Te lo dico dopo la fine. Ciao, sono Luca Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Plending Internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale cliccando subscribe e a lasciarmi un like che vorrai eventualmente lasciarmi o levarmi alla fine del video se non ti sarà piaciuto il contenuto di grande qualità che sto per rapportare all'interno del tuo percorso di crescita personale. Sono qui a Dubai per raccogliere impressioni personali su quello che sta succedendo sotto un profilo culturale ma soprattutto sotto un profilo fiscale perché è di quello che mi occupo in prima persona. Io mi occupo di fiscalità internazionale e di pianificazione. Dubai è una città sicuramente interessante sotto un profilo culturale. Secondo me oggi ci sono due anime, ci sono due Dubai. C'è la Dubai dei lavoratori, la Dubai degli expat, degli imprenditori che lavorano dalla mattina alla sera, non voglio dire nell'ombra, ma con tanto sacrificio e tanta soldenza e poi c'è una Dubai dello show off e quindi la Dubai tecnicamente notturna, quella dei locali, quella delle discoteche, i due mondi non per forza di cose si incontrano. Quindi a te che ti stai domandando se Dubai può fare al caso tuo, la risposta è sì, a prescindere. Dipende da quali delle due anime tu ti senti appartenere di più, ma tecnicamente, come ti dicevo, si possono anche incontrare. Ti direi che però la prima parte, quelli che lavorano tanto e davvero, quelli che poi si sono fatti da soli, quelli che magari non vengono da una tradizione imprenditoriale solida, non vengono da famiglie solide, lavorano dalla mattina alla sera, che poi sono la maggior parte dei miei clienti, perlomeno quelli che vengono dall'economia digitale. E poi c'è una parte di show off, ma anche nello show off qui si fanno affari, anche nelle discoteche, anche nei locali, anche nei ristoranti, è sempre un'occasione ottima per fare networking e per fare affari. E poi c'è una Dubai oscura, ma non siamo qui a parlare di quello, non è mio compito. Io sono qui invece per raccontarti quello che attiene soprattutto al mio settore, cioè quello della fiscalità internazionale. Il relocation plan, l'apertura di società a Dubai oggi va per la maggiore. Diciamo che è una buona percentuale anche del mio fatturato, sulla mia scrivania, ci sono decine e decine di richieste che riguardano Dubai, sia per quanto riguarda eventuali relocation plan, quindi imprenditori che da ogni parte del mondo decidono di trasferirsi a Dubai o stanno valutando l'idea di abbandonare il proprio paese, la propria residenza originale per trasferirsi a Dubai, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di gruppi. Volente o nolente, oggi Dubai, avere una subsidiary, avere una società a Dubai è comunque importante per servire tutto il mondo medio orientale. Prima le holding in realtà si facevano a Hong Kong per gestire e per servire il mercato asiatico. Oggi diciamo che Dubai sta prendendo piede sempre di più, sia per quanto riguarda appunto il giro d'affari, è inevitabile che se appartiene a un gruppo di medie e grandi dimensioni, ma anche solo se vuoi internazionalizzare, se sei in Italia, se vuoi espandere i tuoi servizi, i tuoi prodotti nel Medio Oriente, avere un piede a Dubai oggi direi che è d'obbligo e credimi è davvero sconvolgente l'impatto che hai nel momento in cui atterri e ti rendi conto che di come, proprio ti rendi conto, soprattutto se vieni dall'Italia, ti rendi conto della differenza dei due mercati, di che cosa significa fare impresa, lavorare in un mercato come quello italiano, altamente depresso e altamente complicato, noi lo sappiamo bene che ci siamo formati e veniamo da lì e atterrare invece in un mercato dove i soldi girano, dove gli affari si fanno, non hai quella difficoltà neanche nel prendere clienti, nelle vendite che puoi avere invece in Italia. Ti invito a farti una passeggiata, te ne accorgerai di per te stesso. Quindi Dubai è oggi un centro fondamentale nella pianificazione fiscale e nei relocation plan, quello che però è fondamentale che passi oggi in questo mio messaggio, che è il fulcro del mio messaggio, è che in qualsiasi tipo di attività che riguardi la fiscalità, quindi dal semplice relocation, trasferimento di residenza, alla riorganizzazione di un gruppo medio-grande o anche all'internazionalizzazione, cioè una SRL che vuole aprire una succursale a Dubai, è importante farlo con un professionista. Da questo punto di vista Dubai lascia molto a desiderare di direi che è una vera e propria giungla, perché è pieno di persone, di improvvisati, di professionisti o li chiamo fenomeni, che promettono servizi e soprattutto si nascondono dietro la facciata di company provider, service provider. Ma tu devi sapere che il service provider è uno che apre società, quindi non ha nel 99% dei casi nessun background di fiscalità. Ora la cosa che a te interessa di più, che vieni qui o hai intenzione di aprire una succursale qui, è esattamente il risvolto fiscale di quello che andrai a fare, perché dal risvolto fiscale dipende la responsabilità tua, personale, non solo fiscale, dei prossimi 5-10 anni. Perché se facciamo riferimento per esempio al mercato italiano, ti stacchi male dall'Italia, sbagli a gestire rapporti finanziari, fiscali, l'eventuale versamento dell'IVA, se c'è la necessità di avere conti correnti multivaluta per gestire le transazioni e ridurre anche i rischi nel cambio valuta a seconda dei mercati che stai servendo, ma soprattutto la gestione anche burocratica e amministrativa che si fa qui, perché qui ci sono delle legislazioni, ci sono delle leggi nuove in divenire e adesso ne parliamo da rispettare. Se sbagli una di queste cose, le implicazioni in termini di responsabilità anche penale che vanno in capo all'amministratore di fatto delle società coinvolte sono enormi e quindi è giusto che tutti affidi a un professionista per gestire tutti gli eventuali risvolti passati, presenti e futuri, altrimenti si fanno danni e questo è l'aspetto più oscuro che mi permetto di contestare e di additare qui oggi in questa sede, perché sto vedendo dei miei nuovi clienti che vengono da situazioni di danni alcune volte anche difficili, molto complicati da rimediare. Non è vero che a Dubai è tutto permesso, non è vero che puoi venire e fare quello che ti pare, ma devi comunque rispettare una serie di regole che qui ci sono. Dal 2023 le cose cambieranno ancora più radicalmente, bisognerà fare ancora più attenzione a quello che oggi non si fa o che sedicenti fenomeni che vivono qui a Dubai e che aprono società vi dicono di fare. Che cosa sta cambiando e a cosa fare attenzione te lo dico nel prossimo video.